questa è la parte di Pozzuoli ragazzi che mi piace di più perché se salite sopra vedete questo bellissimo panorama di questa città che arriva proprio nel mare vi ricordo che poi ci sta logicamente per chi è e ama l'archeologia marina ci sta qui a Baia la città il porto sepolto non solo poi ci stanno tantissime altre cose comunque e logicamente io vi consiglio sempre di essere persone esperte quando fate delle cose subacquee può sembrare semplice stare con la maschera vedete quanto è bello questo punto perché vedete proprio tutta la Pozzuoli e quindi vi consiglierei sempre comunque di farlo con le guide anche se pagate qualcosina in più però comunque queste cose vanno fatte con sicurezza perché se non siete esperti anche se questa città in fin dei conti si trova a due metri sotto il livello marino quindi non è chissà che cosa però se dovesse andare a visitare proprio in fondo quindi toccare le pietre le colonne quello che sia lo dovete fare obbligatoriamente con delle maschere bobole d'ossigeno e se non siete delle persone esperte vi potete passare una cattiva vacanza quindi è meglio fare le cose con calma adesso vi faccio vedere un altro punto che comunque non è visitabile solo dalla parte esterna però non voglio farvi vedere niente per il momento storia da tutte le parti e poi come si mangia avete visto nei ristoranti da incubo i vari ristoranti che stiamo facendo qui in questa zona tutti buonissimi allora siamo arrivati in questo punto che è il centro di Pozzuolo dove a pochi metri di distanza praticamente lì c'è il porto di Pozzuolo per andare a prendere i traghetti che portano a Ischia ma non solo c'è il più grande e famoso mercato del pesce dove tutti i ristoratori e tutte le persone normali vengono a comprare il pesce fresco qui qui ci troviamo praticamente nel tempio di Serapide però il tempio non è visitabile come vedete eccezionalmente oggi lo troviamo con l'acqua questo qui una volta era sommerso una volta vi intendo intendo pochi anni fa era completamente sommerso dall'acqua quello che uscivano dall'acqua che è l'acqua del mare solo le estremità delle colonne le tre colonne poi tutto il resto era sommerso dall'acqua c'è stato logicamente con i vari terremoti che spesso vengono qui nella zona di Pozzuolo perché comunque ci troviamo a livello di geologicamente parlando ci troviamo in un luogo dove ci sono i vari bradisismi e quindi automaticamente è un vulcano perché abbiamo anche qui la solfatare che purtroppo non è visitabile proprio per l'incoscienza della gente allora come appunto vedete eccezionalmente noi adesso lo troviamo con l'acqua ma in realtà l'acqua non c'è qui è una cosa eccezionale che ci sta un po un filino d'acqua hanno fatto in modo di di praticamente di non fare arrivare l'acqua del mare qui per salvare questo questo posto come vedete andate quando ci sta di inondazione perché lo stesso comunque l'acqua del mare riesce ad arrivare come vedete queste colonne sono la testimonianza vedete quando i colori sono più scuri e più chiari vedete quello là rappresenterebbe il livello del mare che si fa in alcuni periodi non è sempre così eccezionalmente lo abbiamo trovato in questi due tre giorni con un livello dell'acqua un po più alto però comunque non è mai così ma è un sito che non è visitabile quindi ci può stare un'entrata di acqua all'improvviso quindi non è stato reso visitabile il sito anche se poi hanno inserito come vedete delle panchine però potrebbe essere pericoloso quindi non 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 si può visitare all'interno lì e quindi qua la caratteristica sono questi ristorantini che vedete lì allora si rossi e ristorantini come caratteristica che hanno è che non fanno un vero pranzo sono per 50 euro su peggio vi portano un miliardo di cose da assaggiare e pizzettine fritte e melanzane fritte ma la riprendo perché non so da dove stavo da dove stavo registrando perché lo spazio dell'iphone è praticamente terminato allora da qui ci sono tutti questi ristorantini che veramente sono simpatici perché non è che fanno un pranzo o una cena vera e propria sono tutti degli assaggi e non costano neanche tanto una cinquantina di euro su peggio a tavolo e vi portano milioni proprio talmente di quella roba da mangiare che è veramente spettacolare poi cucinano veramente bene questi qua sembrano dei locali turistici però in realtà non è assolutamente così ti cucina proprio bene quello che vi ho detto che il popolo di Pozzuoli un po' come un po' come il popolo di Amalfi ama proprio che il turista ritorna quindi a loro non interessa se siete francesi spagnoli francesi tedeschi quindi che magari non capite il mangiare oppure no loro non se ne fregano proprio nel modo più assoluto non sono né razzisti e non se ne fregano se siete di un'altra nazione loro vogliono semplicemente che poi un giorno ritornate nel loro ristorante e ritornate nella loro terra quindi loro lavorano sempre 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 bene perciò Pozzuoli anche io da napoletano che sono che comunque abito in che abito in Francia però Pozzuoli è sempre stata quella zona in cui praticamente mi sono ho passato praticamente la mia la mia giovinezza perché qui c'è un po' di tutto locali di giorno locali di sera mare spiagge eccetera allora adesso andiamo un po in Pozzuoli nella città nella parte antica di Pozzuoli è caratteristica prima di tutto perché ci sono tantissimi negozi e ci troviamo quindi nella parte della città di Pozzuoli è caratteristica prima di tutto perché ci sono tantissimi negozi chic o meno supermercati negozi di ambigliamento ma è caratteristico che ci sono questi bellissimi vicoletti dove vedete poi questi ristorantini che si mangia come vi ho detto si mangia molto bene si paga anche molto poco però è tutta caratterizzata da questi vicoletti poi comunque si affacciano tutti sul mare però andando a esplorare tutti questi vicoletti è molto caratteristico un po' come la la città di San Tropez dove arriviamo qui a questa piazza principale adesso vi faccio vedere tutti questi vicoletti sono caratteristici da andarli a visitare noi non lo facciamo perché comunque ho anche io dei tempi da rispettare però diciamo non rimarrete delusi se avesse pensato di passare una mezza giornata qui al centro di Pozzuoli con le sue chiese i suoi ristoranti le piazzette molto molto caratteristiche hanno veramente tante cose da vedere allora io non mi allora per il momento noi andiamo a terminare così e tutte su tutti questi piccoletti su tutti da visitare troverete tanti tanti negozi simpatici barrettini di tutto allora per il momento noi ci fermiamo adesso continuiamo la registrazione con l'auto che ci porterà all'hotel che è un hotel che io consiglio a tutti per la sua calma per la sua posizione e principalmente per lo staff dell'hotel che vi coccolerà durante il vostro soggiorno allora a più tardi dalla macchina allora vai su youtube come vi a youtube aggiornamento si ok ora per esempio quello che sto registrando qua sono due canali uno è strade del mondo quindi normalmente io registro mettendo una telecamera ok per registrare le strade però quest'anno non lo faccio e quindi ora registro questo questo poco qua che ho con altri video e assento e poi c'è il canale delle garage mare viaggi che è per i viaggi che ancora non è caricato questi questo qua che sto facendo ora lo carico tra poco ok quindi stasera lo trovo si e poi c'è ho ricette da sballo perché cucino abbastanza bene anche io sono bravo cucina poi c'è un canale di effetti speciali per i video quindi basta che cerco Paolo Orlando o Paolo Orlando oppure si basta che cerco Paolo Orlando ok mangiava lì c'è il mio sito d'arte c'è il canale dove faccio vedere come si fanno le cose artistiche i quadri ah perché tu sei artista? ah non lo sapevo questo si chiama bricolaggio della vita e quindi faccio vedere come si fa come si usa la resina quello come tu ah ok quindi c'è una tua diciamo passione e professione l'arte? si ok esco nelle gallerie d'arte ah ok io ho fatto il liceo artistico ah beh ti capisco un po' di quello che parli eh piace l'arte pure a me quindi e quindi poi aggiuntata architettura quindi c'è il cliento però perché mi piaceva geometrica sempre l'architettura è anche una cosa artistica eh si 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 però ho fatto sai l'architettura geometrica quindi era un po' più però all'inizio mi piaceva molto di più fare d'albero disegniamo d'albero con la pittura quindi come come tutte le passioni devi pompare nelle passioni se no pompi si sconfiano ah beh dipende ma per esempio a me è il comunque sono un'autoridatta non ho fatto nessuna scuola per quanto riguarda perché una volta qua oltre al lavoro facevo dei presepi molto particolari infatti ancora tuttora oggi le persone che c'hanno i miei presepi ce ne hanno ancora l'anno pure sono passati 20-25 come li facevi? no facevo delle cose astratte? strane per esempio un presepi che ho fatto che era qualcosa di impensabile lo feci con la sabbia e ho riprodotto Colosseo e tutta Roma tutto di sabbia ma che sei dicendo? all'interno di questo presepe emisi più di 250 lampadine a fiamma quindi ti lascio immaginare l'effetto che lavoro poi che lavorare? ma quella fu la più grande soddisfazione perché prima di completarlo passò una persona che io li facevo giù al garage passò una persona che ogni sera posava la macchina e quindi mi dava sempre l'occhiatina e quando lo vide prima di finirlo disse no questo qua lo voglio io ciao 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 ciao